Signori e signore, lei è Eleonora, una mia amica che ha deciso di provare a far parkour per la prima volta. Preparatevi perché ci sarà da ridere, considerando tutti i fake che abbiamo fatto. Durante questa giornata erano presenti questi ragazzini, che sono due mie fan, ma si sono anche rivelati essere dei mostri nelle fariflip. In questo video purtroppo li vedrete poco, ma volendo potrei dedicarci un intero video a riguardo. Scrivetemi nei commenti se vi piacerebbe vedere un video del genere. Sono io, sono io. Oh, mi sta rimanendo. Sì, questo sì. Mi metti su Instagram un video? Un attimo ragazzi, un attimo. Ma sei un fenomeno, ma ti giuro ti stimo troppo. C'è un po' il parco di oro, ti chiami padre. Bravo, però con calma. Adesso invece le faccio fare le barbies, così le ammazzo definitivamente. Così le faccio? L'escaldamento è finito, adesso andiamo sui trampolini. Sì, lo scaldamento. Vai, lo faccio anch'io, lo faccio anch'io. Oh, mio Dio. Gambe dure, gambe dure. Perfetto. Ciao. Aiuto. Lele si sta stancando, quindi adesso la portiamo al Ninja Warrior. Sta morendo. Cos'è il Ninja? È il percorso ostacoli che c'è qua, anche sopra. Io morirò oggi. Morirai? 25 anni. No. Vai, vai, tu hai detto se quel picco... No, no. Vai, vai. Sono vinta che ci sono i coppi di denso. Ragazzi, ho capito la teca. Non è vero. Ma che pausa? Guarda che cadi qua. Dai, Sani. Non ho mai avuto un caso così perso da quando sono qua in palestra e mi aspettavo molto di più. È vero. Ma è nella vita. Madonna. Aspetta, ferma. No, ferma. Ferma, non te la tolgo, però è un pezzo di gomma più, ma... Guarda. Vedi, era cattivo quel giocatore. Ma la fa un cucco. Ok. Mi sento i unicati. Dovete venire qua, ragazzi, a fare questo. Altro che la corsa, la palestra, sullevare i pesi, questo. Questo fa veramente i muscoli. Quanta aerobica abbia fatto nella vita inutile. Qua sto sull'anno in dieci minuti, quello che in palestra da cinque ore. No, sui gialli devi stare, dai. Scusa. Ele, se tu lo provi, rimani lì. Morta lì, ti facciamo la barra lì. Ho paura. Dai, mi sembra facile, dai, lo provo. Bello che ha detto, mi sembra facile, adesso vedrò. Vai. Sì. Eh, ma le gambe le butti giù. Ma c'ho paura. Mamma mia, c'ho paura. Dai, andiamo avanti, va. No, 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 vai. Sì, vai, 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 tranquillo, vai, tranquillo, vai. Spingi, spingi, spingi. Tese le gambe, tese, tese. Dure. Dure quelle gambe. Oh, no, non è brava, è il controbalzo. Il controbalzo. Perfetto. Spingi bene. Brava. Pronto, atterrato in piedi. Il salto avanti. Uno, due, e al terzo vai. Bene. Sì. Nesta riesce a fare un canestro. Hello there. Go. Wow, troppo forte. Devi diminuire la potenza e la lunghezza. Ok, come lunghezza devi essere più centrato ora. Perfetto. Perfetto. Come si fosse normale. È il tiro di una paperella. Quello baby ce la fai, da schiacciare. Dai. No, niente. Allora, lo vedi questo? Sì. Praticamente lo devi saltare e toccarlo. Ma è troppo alto. Ce la fai, ce la fai. Vai, alza la mano, vediamo quanto è alto. Ok, dai, non troppo. Carica bene e salta. Come stai caricando? Fai rifallo perché sembra facile ma non lo è. Sì, spingi con le gambe. Tantissimo. Ma fai questo, fai. Il braccio è sempre largo. Le gambe è molto bene. Con calma, con calma. No. Perché tu fai... Ma, mi ricordi, il culo fai tirarci. Non muoverti troppo con le braccia. Sei dritta. Ricorda, muovi il braccio. Brava, brava. Brava. I mani su. No. Quanto cazzo fa? Cosa cazzo fa? Cosa cazzo fa? Cazissimo. No, che storia. 1-0. Ok, ok, ok. Vai, come ti ho detto. Salta bene in alto. Oh, hai visto? Non è il busto in avanti. Usa le braccia per darti l'equilibrio. Vai. Vai, vai, salta su. Convinta, bella convinta. Oh, meglio. Una volta sei in alto. Oh. Su. Oh. Bene. Tre ore. Esatto. Partitella a dodgeball. Sei pronta? Per rigo. 3, 2, 1, via. Oddio, schivata per un pelo. Presa al volo. Presa. Presa. Non ho preso. Voleva prenderla al volo, ma con un braccio non ce la faccio. Presa. No, parata, parata. Mi ha preso dritto sulla testa. Vai, io non ti faccio. Mi ha preso le pagine. Aio. Oh, no, ce l'ha però. Presa. Uè, è forte, eh. Per essere la prima volta che viene qua, è forte. No. Mi ha preso dritto in faccia. Ti ho preso in faccia? Voleva. Basta. Finito. Ero. Ho quant'è per così tanto. Eh, lo so. Uè. Bruh. Grazie a tutti.